Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannatasio. Sulla FIPILI per lavori, due chilometri di coda in entrambe le direzioni tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, ci sono inoltre code in uscita alla Strassigna in direzione mare e rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandici e Firenze Sud in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla statale 1 Aurelia restringimento di carreggiata tra Cecina Nord e Rosignano. A Firenze per la riparazione di una condotta idrica chiusa alla rotatoria in piazza Gaddi tra Via De Vanni e Via Bronzino. Uoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!